Concentrazione a mille nonostante la vittoria in terra russa per 3 a 0. La chiede ai suoi mister Monti a ritorno dalla trasferta che ha consentito ai biancorossi di mettere una bella ipoteca sulla finale della Challenge Cup. Con loro sul pullman arrivate o questo pomeriggio a Piacenza ci sono gli avversari dell'Uralufa desiderosi di rivincita. Non vanno sottovalutati, dice il presidente Molinaroli, che invita i piacentini all'appuntamento di domenica alle 18 al Palabanca per il ritorno. È valsa la pena, però abbiamo vinto un set, come si dice. Adesso se non vinci qua vai nel calcio di rigore se fossimo nel calcio. Sappiamo che questi ieri non hanno giocato forse il meglio, noi abbiamo giocato il massimo, però abbiamo visto cosa hanno fatto nella loro ultima partita in Polonia, che hanno vinto là il golden set. Ha fatto un grande risultato, ma sappiamo anche che la partita di domenica sarà molto complicata perché ci aspettiamo sicuramente una reazione da parte loro. Adesso la parte della tensione, la paura di sbagliare, la paura di non portare a casa questa occasione che ci siamo creati diventa un pochino più difficile. Il risultato è importante perché adesso a ritorno ci basterà vincere, non è fatto niente perché con questo sistema dobbiamo vincere la partita comunque.